buongiorno amici bentornati in diretta siamo qui da riccardo pace spettacoli spettacoli ragazzi un sacco di amici c'è anche al nostro amico ignazio ignazio un saluto alla salute c'è il nostro mimmo panorama italy panorama italy panino con la milza ragazzi e bellissigliola qua dal nostro amico riccardo faccio vedere pure quella protesiaca ragazzi faccio vedere anche da questa parte tabella insalata ragazzi vieni mi facciamoci un selfie con il nostro amico ignazio direttamente dalla svizzera salutiamo un saluto ragazzi saluta il panino con la milza un bel vinello spettacolo ragazzi ciao antonisa vediamo anche antoni vai vai una bella inquadratura a vostro ricco spettacolo un saluto ragazzi spettacolo il signore ragazzi panino con la milza buonissima allora bastiglione un bel siglione giusto tu due giusto dopo le massimone bevevacca giuseppe sciortino e giochino vaccarlo come ne va una panina giusto lei signore non me le darò guardiamo che francesco balisteri c'è francesco canna maria un saluto siamo qua facciamoci un altro un altro selfie mimmo ancora un saluto il nostro amico ignazio il nostro minimo il nostro panino ragazzi grazie a me lo fatti il video che ha ripreso lo chiesto il faccio sentiamo anche anna maria grillo ciao giussi vediamo pure il sigla live ragazzi tagliate un nuovo panino ragazzi nel riccardo spettacolo ciao giacchino un saluto ciao io hai chiesto che ho fatto sicco io hai chiesto spettacolo ragazzi se lo vediamo pure carmelo d'angelo e pippo prestigia con buonissimo buonissimo ragazzi buonissimo ciao giussi grazie c'è anche il nostro ignazio stamattina ragazzi sentiamo in chiale nade fatima io sogno carne e cerate diavolo ringraziamo ignazio che mi piace 500 stelle da lì ragazzi diciamo in una lingua a noi stessi non ci fanno pazzi salutiamo a nino mannino ciao ninuzzo ciao salutiamo tutto il palermo live per parlare allo spettacolo salutiamo a tutti ragazzi salutiamo a tutti e ogni rego salutiamo anche a pippo prestigia come giochino buonissimo buonissimo vediamo Michele Scaletta c'è Michele ragazzi noi intanto finiamo il panino facciamo un saluto via nina facciamo un saluto chiudiamo ragazzi c'è il nostro bel panino forza palermo spettacolo ragazzi Riccardo un saluto ciao ragazzi buongiorno mondo del facebook che continuiamo ancora vamos ragazzi chiudiamo ragazzi chiudiamo un saluto a tutti voi un saluto a tutti voi ragazzi un bacio da palermo chiudiamo con questa nebbia risigliola ragazzi un bacio a tutti alla prossima un saluto ovviamente alla nostra giusi entro tutto lo staff e tutti i sostenitori della pagina come un saluto a tutti grazie ciao 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 Grazie a tutti.